Irina! Si avete ragione! Anna! Perchè Anna? Francesco! A me ti faccio una cosiddetta, culo culo guardati qua, culo culo quasi. Fatelo anche voi. Siamo di fronte. Tranquille, adesso facciamo un giro a vuoto che guida sempre Claudia e poi... 3, 4, 10, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 10, 7, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 7, 7, 8, 1! Oh fatemi un applazo Ok, questo è fatto Questo perché mi spaventa Mi spaventa tanto l'accanimento dello suo sopravvivere alla vita. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.